Arcadius Milik non seguirà la nazionale polacca negli ultimi impegni validi per la qualificazione al prossimo europeo in programma sabato contro Israele e martedì contro la Slovenia. Il problema è riacutizzarsi di un fastidio inguinale, per la precisione si parla di una tendinita al Pube, che l'aveva costretto a rimanere fuori dai convocati, per la gara contro il Genoa di campionato. La nazionale polacca comunica che il giocatore ritorna in Italia, dove su richiesta del Napoli si sottoporrà a ulteriori controlli. La classifica piange e il Milan cerca di correre i pari, studiando i possibili affari da mettere a segno nei prossimi mesi. La scarsa verve realizzativa di Pionte Cleao spinge la dirigenza rossonera a guardare al reparto avanzato, e l'idea sarebbe quella di riportare in Italia Moise Ken. L'ex attaccante della Juventus sta facendo fatica ad ambientarsi in Premier League con la maglia dell'Everton, 11 presenze e nessun gol. Secondo il tabloido inglese The Guardian, il procuratore Mino Raiola sarebbe cercando una nuova sistemazione per il 19enne. Nessuna rivoluzione a gennaio in casa Napoli. Nei piani della società partenopea non c'è la cessione dei cosiddetti rivoltosi di un ammutinamento che appartiene a tutti. Il problema verrà affrontato con multe da definire secondo regolamento interno, ma senza epurazioni. Caleone e Mertens hanno il stimatore in Cina, e anche l'Inter ha la finestra, ma Aurelio De Laurentiis non ha intenzione di fare sconti e di lasciare liberi i suoi giocatori a parametro zero a gennaio. Nonostante la corte della Roma, dovrebbe rimanere al San Paolo anche Isai, vista l'emergenza di Ancelotti sulle fasce, con l'infortunio di Malquit e un Goulam ancora lontano dalla forma migliore. Aria di addio tra Ivan Rakitic e il Barcellona. Il cittocampista croato non ha nascosto la sua delusione per lo scarso utilizzo da parte del tecnico Ernesto Valverde. Al programma Universo Valdano, Rakitic ha dichiarato, rispetto alle decisioni del tecnico o di qualunque squadra, io in questi anni ho dato molto al Barcellona e voglio andare avanti e divertirmi. Ho 31 anni, non 38, mi sento nel pieno della forma. Mia figlia quando le tolgono un giocattolo diventa triste. Al momento io mi sento nello stesso modo, mi hanno tolto il pallone e sono triste. Facile ipotizzare a fine stagione un addio, su di lui c'è il Paris Saint Germain, ma anche Juventus, Inter e Milan.